Tanti auguri a te Mamma mia, oggi è buon asciugato Benvenuti ragazzi in questo nuovo video Siamo tornati con il Rampage La gara più folle al mondo di mountain bike free ride Ventesimo anniversario Devo dire che il rischio in questa gara è veramente altissimo E voi direte, ma siccome il rischio è così alto Le cadute ragazzi, non parliamone Perché ci sono delle persone che vogliono fare questa gara ragazzi Partecipare o addirittura vincere un Rampage Ti dà un prestigio a livello di atleta altissimo E soprattutto poi il premio in denaro è abbastanza alto Ultimo dato rilevato da Wikipedia Nel 2016 ragazzi il price money era di 200.000 dollari Siccome ho fatto solo un video due anni fa Prima che ci fosse il covid Poi hanno annullato la gara nel 2020 E quindi tantissimo pubblico che mi segue Probabilmente non conosce nemmeno che cos'è Rampage Ma magari lo vuole seguire Ho deciso di fare questo video proprio in previsione del 15 ottobre Che si terrà appunto il Red Bull Rampage 2021 Quest'anno la commenterò live su Red Bull TV ragazzi Prima volta nella storia che qualcuno commenta in italiano live il Red Bull Rampage 15 ottobre tutti su Red Bull TV a guardare la diretta Con me, Marco Fontana e Andrea Ziliani Io vi lascio in descrizione ragazzi i link per scaricare Red Bull TV se non ce l'avete ancora E per tutte le info utili riguardo all'evento Sigla e poi vediamo tutti i momenti memorabili della storia del Red Bull Rampage Le regole di una gara del genere non sono molto difficili a capire Scendere dalla linea più pazza che si trova con i trick più estremi E che ce va? Che ce va? Che ce va? A parte gli scherzi ragazzi I rider hanno due settimane per costruirsi la linea Con un team di due o tre persone Per poi fare la migliore run in finale Come ho dato all'inizio siamo nel deserto dello Utah E la location continua a cambiare Nel senso che ovviamente dopo un po' di anni Immaginatevi che tutta la montagna è praticamente piena di salti Quindi per dare una bella rinfrescata E per fare in modo che gli atleti costruiscano nuove linee Cambiano completamente montagna Da quello che si dice il Rampage vuole un po' tornare alle origini Perché negli ultimi anni Praticamente era diventato uno slopestyle Quindi con salti molto precisi Autostrade come ferrage eccetera Invece vogliono tornare come i primi anni Dove invece si scendeva veramente a caso a rando Da cui mi collego al primo momento memorabile Proprio risalente al 2003 Quindi una delle prime versioni del Rampage Ecco che vediamo un Josh Bender ragazzi Cioè a qualcuno di voi potrà sembrare assolutamente senza senso Ma per un mountain biker Dovete capire che cercare di fare un salto Dove non c'è una vera rampa Un vero atterraggio E magari un salto anche molto grosso Chiuderlo e andare via Vale il tentativo di provare una pazzia del genere In questo caso l'atleta in questione è Josh Bender Uno assolutamente rinomato al tempo Per essere un sender ragazzi Tradotto uno che manda A caso Nono posto ragazzi Tom Van Steenbergen Che nel 2018 Ha deciso di fare uno dei backflip drop Più grossi della storia Sono 55 piedi Cioè quasi 17 metri di diagonale di salto ragazzi Cioè ragazzi non so se vi rendete conto Cioè guardate prima del drop Lui non vedeva niente Ha girato Ha girato anche un po' troppo Infatti avete visto che Cioè si è allungato praticamente anche lui Per atterrare Però ragazzi l'ha chiuso Ho provato a casa veramente questo salto Che è veramente veramente immenso Avete presente quando vi dico Che il rampage è una gara estrema Dove le bici sono sottoposte a stress estremi Ecco Cioè questo è quello che succede Quando si arriva un po' lunghi Un salto Nel 2014 ragazzi Kelly McGarry Arrivando a lungo su questo canyon gap Ha tirato questa secca estrema Dove la bici è esplosa È vero è arrivato molto lungo E la bici non ha retto La cosa che impressiona di più in questo video È il silenzio dopo la caduta Secondo me Vederlo davvero è stato una roba Spaventosa Ma passando un momento più memorabile ragazzi Nel 2019 Andrò Lacondeghi Ha deciso di fare una delle linee più pazze E freeride Secondo me è della storia Dopo aver fatto questo flat spin Su quella hip ragazzi Che è stato lunghissimo E aveva fatto un back flip a caso Ma Non aveva senso Ragazzi E noi lo stavamo anche vedendo in diretta E ho fatto la reaction Non contento nella seconda run Ci ha riprovato C'è riuscito Ma era ancora più wild Della cosa Ma Epico Fa tre indie Fa tre indie No Adesso Speriamo di non avere le stesse reazioni In diretta Su Red Bull Ragazzi Vi ricordo che c'è la diretta Il 15 ottobre Su Red Bull TV Ragazzi A tal proposito Mi ricollego anche allo sponsor Del video di oggi Che è NordVPN Ragazzi Se non avete NordVPN Vi invito assolutamente A scaricarlo Perché tantissimi di voi Mi hanno provato a scrivere su Instagram Durante qualche gara mia O qualche altra gara Trasmessa online Che magari non riuscivano a vederlo Per problemi di connessioni Di paesi Di qua e di là Ragazzi è facilissimo Basta andare a scaricare NordVPN gratuitamente Vi connettete a un server Di un altro paese E il gioco è fatto Oltre a poter vedere Tutte le gare che vi interessano NordVPN Vi mantiene la connessione Veramente molto sicura Perché l'indirizzo IP Non sarà visibile da nessuno E voi dite Ma a me non sarebbe Perché tanto io poi guardo Sempre le cose dell'Italia Vi sbagliate Perché è possibile Che proprio dall'Italia Voi non riusciate a vedere Qualcosa all'estero Per non parlare poi ragazzi Se per caso viaggiate tanto È veramente indispensabile all'estero Come fate a vedere Se non ho magari Una serie di tv Che in Italia non c'è Con NordVPN ragazzi Un clic Uno solo E siete felici con te Ragazzi Se cliccate su questo link Che trovate appunto In descrizione Avrete anche uno sconto Sul piano biennale E un bonus aggiuntivo Scaricare appunto NordVPN è gratuito E soprattutto Avete una prova Di 30 giorni Soddisfatti o rimborsati E lento reto Cos'è che fa Alle persone Che non scaricano NordVPN Le prendo Legandole alla sede No È qui salvato Non fatemelo chiamare Ma torniamo a noi ragazzi Sempre Tom Van Stenberg Nel 2017 Ha deciso di iniziare La sua run Con un caveman Un ninja drop Che cos'è? Cioè di solito Questo trick si fa In BMX Giù dai muretti Robe basse Lui l'ha fatto Da un drop Di non so quanti metri Peccato che poi Ha rovinato la sua run Perché poco dopo Ha messo giù il piede Perché si è fermato Troppo prima di un altro drop E Quinto posto ragazzi Per Antoine Bizet Dalla Francia Che nel 2016 Ha fatto Il primo Doppio backflip In gara Del rampage Non vi spiego neanche ragazzi Quanto è più difficile Fare un doppio backflip Con una bicella downhill Da 15 kg Rispetto a una bicella d'orfa Questo su doppio backflip Gli è valso anche il secondo posto In quell'anno Ma attenzione ragazzi Perché adesso andiamo Veramente Sulle cose succulente Ci avviciniamo al podio Poco fuori dal podio Ho messo Cameron Zink Come un trick ragazzi Da una struttura Sembra un po' Le strutture di Gardaland Hai presente Quando salite sugli scivoli Della Qua Park C'è andato un po' Le cose tribali Eh Peccato che ha fatto Un salto enorme E ci ha pure trickato Per farvi capire La grandezza Guardate Cosa succede Quando si sbaglia Un salto del genere Andando dre Pensate a sbagliare Un 3-6 da lì Ok al terzo posto Ragazzi Ho voluto mettere Un crash Un crash veramente Incredibile Penso il crash più pazzo Che si sia mai visto Nel Rampage È proprio la classica Caduta da incubo Che uno dice Ma non potrà mai succedere Non potrà mai cadere Nel burrone Niccoli Rogatkin Ha vissuto l'incubo Con i 3-3 drop in una volta E ho avuto Un'altra volta Oh no Oh my god Per farvi capire Un attimo Le dimensioni Ragazzi È tipo un palazzo Di quattro piani Di più Cioè In questo caso Lui stava scendendo Normalmente Poco prima Di arrivare E su quello strapiombo Gli si è chiuso lo sterzo E lui è caduto di fianco E della GoPro Non sembra neanche così strema Ma quando lo vedete da fuori Cioè avete visto Che botta che ha preso È rimasto giù un bel po' Poi però Vi fa capire quanto È animale Niccoli Rogatkin ragazzi Si è rialzato Con la faccia sporca di sangue Ha ripreso la bici E ha finito la run ragazzi Non sarà fortissimo in Freeride È stato Credo l'unico Rampage Che ha fatto Ma ragazzi Dimostra sempre Una forza E un'energia Che nessun altro ha Per il primo e il secondo posto Ragazzi Il caso ha voluto Che fossero entrambi Del Red Bull Rampage Il 2013 Secondo classificato ragazzi Avete presente il salto Che vi immaginate Proprio di questa gara Che è il cosiddetto Canyon Gap Cioè un salto Che supera una vallata A Rampage Anni fa c'era Esisteva questo salto Fonti attendibili Ci dicono 72 piedi Quindi l'equivalente Di 22 metri Dove se per sbaglio Si arriva un pelino più veloci Un pelino più lenti Si saluta bici Polsi Caviglie Qualsiasi cosa E ragazzi Cameron Zink Quell'anno l'ha proprio Sperimentato sulla sua pelle Arrivando qualche chilometro In più Avete visto Dove è atterrato La cosa che mi fa più paura Di questa caduta È sentire lui in aria Che Quel senso di Non posso più fare nulla Aspetto l'impatto E chiudo gli occhi Parlando sempre di cadute Tom Van Steenbergen Sempre su un Canyon Gap Molto lungo E qualche anno dopo Aveva provato uno dei front Dei più grossi della storia Girando un po' troppo poco E venendo rimbalzato Praticamente Poi via Atterrando di schiena Dove si era rotto Una vertebra Senza però Grosse conseguenze Però vi fa capire Quanto è pericoloso Fare un trick Su questo salto E Kelly McGare Nel 2013 Quasi dieci anni fa È stato bezzo Poi dire Come la folla È veramente L'impazzita Quando l'ho fatto Mi ricordo che Anch'io quando l'ho visto In derci Ho detto Non è possibile Ma dopo aver visto Un Cam Zinc Diventare più corto Di 10 cm Da poco a lungo Ragazzi Posso comunicarvi Che il primo posto Se lo giudica Proprio Cameron Zinc Ragazzi Che è sempre Nel 2013 Ha fatto Uno dei backflips Più enormi Della storia Della mountain bike E aggiungo Su un salto Veramente nazissimo Lui l'ha fatto In step down Quindi Da una piattaforma 78 piedi Ragazzi Circa 24 metri Di diagonale Di salto Mi ricordo Mi ricordo che Quando abbiamo visto Questo trick in diretta La preoccupazione Era più per sua moglie Era lì con suo figlio O che aspettava il bambino Adesso non mi ricordo Però era preoccupatissima Io non immagino Cosa abbia provato Sua moglie In quel momento Ma la cosa divertente Ma la cosa divertente è che poi la sua run Non l'ha neanche finita saltando Cioè è arrivato in fondo Ma evitando i salti Perché anche lui nell'intervista Il mio gol Era fare backstory da lì Non mi fregava niente Del resto E infatti Quell'anno non ha vinto È arrivato terzo Proprio perché Come sapete Il rampage Non è un best trick Non è un miglior trick È l'insieme di tutta la run Questi sono stati I top 10 Momenti memorabili Che ho selezionato per voi Della storia del Red Bull Rampage Fatemi sapere Se anche voi siete d'accordo Con la mia classifica Oppure Se qualcuno di voi Si ricorda altri episodi Estremi del rampage Sapete benissimo Adesso che chiudete il video Cosa dovete fare Scaricare il nuovo VPN Scaricare il Red Bull TV E noi ci vediamo Il 15 ottobre Live Su Red Bull TV Per vedere tutti assieme Il Red Bull Rampage E urlare tutti davanti al divano Grazie a tutti